La situazione è drammatica da mesi e i dati purtroppo dimostrano quanto temevamo. L'allarme è della funzione pubblica della CGL che con una nota punta i riflettori sulla realtà della Toscana sud-est, compresa la provincia di Arezzo, in tema di personale infermieristico. Il personale si legge in progressiva diminuzione, oltre che sempre più stanco. Le assunzioni promesse sono ferme, di 150 infermieri ne sono entrati in servizio poco più di 50 e nessuno dei tecnici di laboratorio e di 10 tecnici di radiologia. Sono state bloccate le ferie per la maggior parte dei dipendenti, non esiste più una vita privata e familiare. Se ti scrivono, si legge ancora che anche a mezzanotte devi tornare in turno quando eri di riposo. Secondo l'organizzazione sindacale, pazienti e cittadini starebbero riversando le loro frustrazioni sul personale che li assiste e li accoglie, sottoponendolo a stress e aggressioni, tanto che sempre più spesso c'è chi si dimette o rinuncia all'assunzione nei settori più esposti, pronto soccorso e 118. Poi il problema degli ospedali periferici, tra i quali Bibiene e Sansepolcro, sempre più abbandonati a se stessi e poveri di risorse e servizi erogati. Da queste premesse parte la richiesta indirizzata al direttore generale Antonio Durzo, chiediamo, scrive ancora la CGL, assunzioni subito di tutte le figure professionali e uno sviluppo di tutti i servizi sanitari a cominciare da quelli territoriali.